Per permettere i lavori lungo la superstrada, il Comune di Fano, Società Autostrada e Anas hanno concordato una chiusura in notturna dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo di alcuni tratti della superstrada, diciamo dopo Fano Sud in direzione Fano e viceversa. Sono chiusure notturne che abbiamo pensato per minimizzare al minimo i disagi alla viabilità, al turismo, alle attività produttive e sono chiusure che avranno luogo nelle notti del 29, 30, 31 luglio, 1, 2 e 5 agosto, appunto sempre durante le notte dalle 20 alle 7. Siccome il cantiere sarà mobile, cioè progressivamente si muoveranno gli operatori e le macchine operatrici lungo la superstrada, ovviamente non è possibile dire quali sono le chiusure, però ovviamente saranno fatte tratto per tratto e saranno localizzate di conseguenza le uscite che si dovranno prendere direttamente in superstrada. Non ci dovrebbero essere disagi, non ci saranno disagi per l'entrata e l'uscita dall'autostrada e alla fine, credo che sia una cosa molto importante e molto attesa, alla fine di tutte queste attività che sono state programmate finalmente verrà liberata dal cantiere il tratto di superstrada e quindi in previsione anche dell'esodo, il cosiddetto esodo estivo, verranno ripresidate tutte le condizioni di viabilità migliori in quel tratto di superstrada che è stata interessata per ormai anche un anno o forse due dai lavori che Pavimental per società di autostrade sta facendo in quel tratto di superstrada.